Con l'unità, che ci ha sempre pronto a distinto, noi giochiamo un calcio abbastanza semplice, quindi ci conosciamo da un po' di tempo e stiamo entrando bene nelle ultime partite. Bocca l'uomo, credo. Vabbè, come sempre, anche come tu sai, noi giochiamo per vincere, cerchiamo sempre di mettere in campo la migliore formazione possibile, cercando anche di prenderci tutte le presenze e cercando di portare sempre tre punti a casa. Non conosco purtroppo gli avversari, quindi non so dire come giovano, so come giochiamo noi, cerchiamo di giocare sempre palla a terra e cerchiamo di portarli a casa. Bocca l'uomo. Vabbè, grazie. Vabbè, grazie. Vabbè, grazie. Vabbè, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.